Allora, sono allentate sul Seveso, in piena Brianza, quando si parla di Brianza si parla di Capannoni, si parla di mondo imprenditoriale, industriale, si parla di un mondo che è fatto di materie, come può essere Materia il Legno, anzi, com'è Materia il Legno, sono con il direttore di Federlegno. Allora, Sebastiano, raccontiamo intanto questa struttura che è nuova, a settembre cominceranno i corsi qui, mi è piaciuta molto la storia di questo plesso, perché prima mi raccontavate che era un plesso militare, addirittura era una polveriera? Qui era un terreno demagnale, dove è abbandonato, Federlegno Avedo ha deciso qua di portare, costruire una struttura nuova in legno, tutta costruita in legno, che è il polo formativo. Attenzione, voglio dire che quando sono arrivato pensavo che fossero del cemento, invece anche le pareti esterne sono in legno, rivestite, sono come una struttura normale che viene poi intonacata, quindi sono pareti di legno che portano strutturali su cui abbiamo fatto tutta la scuola per efficientamento energetico, velocità del costruire, sicurezza del cantiere. Allora, tante classi, adesso questo qui è proprio lo scheletro, e alcune cose mi hanno fatto particolarmente piacere, perché vedere questa materia che è il legno, vederla così, recuperata da un fallimento, ok, è vero? Era recuperata da un fallimento, viene lavorata dai ragazzi. Dai ragazzi per poter dare nuova vita a questi banchi da falegname, che praticamente saranno i banchi sui quali i ragazzi studieranno. Quanto ci si mette? Allora, intanto, questa, voi l'avete trovato così, ok? Sì, è un banco da lavoro che avrà una vita di un centinaio d'anni. La fase successiva, quella dove i ragazzi, con altri, ovviamente, con altri bancali, hanno lavorato, è questa? È questa, sì. Cioè, guardate come poi i ragazzi... Il prodotto è ripulito, carteggiato e finito con un olio, in modo che anche al tatto, ed è anche facile da ripulire una volta utilizzato. Tu mi raccontavi che vieni da Taranto? Sì, sì, vengo da Taranto, sono Giuseppe e ho deciso di fare questo percorso nel settore marketing della filiera Lennarredo perché ti mette proprio a contatto direttamente facendo stage nelle aziende con lavoro e quindi ho puntato su questo. Allora, intanto in bocca al lupo, qui ci sono i vecchi strumenti del mestiere, però prima, perché lo so cosa mi volete far fare, però parliamo di prospettive di lavoro perché questa è anche la parte interessante e vorrei che anche da casa in qualche modo venisse capito il valore professionale degli istituti professionali. Da qui al 2020 sono previsti 31.000 nuovi ingressi nel mondo del lavoro, 24.000 sono i pensionamenti e circa il rimanente sono la crescita, quindi nuovi lavoratori che entreranno nel mondo del Lennarredo. Una parte importante in Brianza e Lombardia e quindi bisogna formarli perché la verità è che si sta perdendo anche il saper fare italiano e quindi questa scuola, all'interno della Brianza, come ci sono in tutti i distretti, deve ricostruire il saper fare. Gli ITS invece devono costruire il saper vendere il Made in Italy, ambasciatori del Made in Italy, conoscendo il prodotto fino alla vendita sui mercati internazionali. Perché il legno è figo? Perché i ragazzi devono innamorarsi nuovamente di qualcosa che ci appartiene? Perché il legno è uno di quei materiali che ci appartengono per tradizione industriale e imprenditoriale? Beh, perché innanzitutto bisogna conoscerlo attentamente perché è un materiale vignorabile e sostenibile, ma soprattutto perché mentre oggi pensiamo a un lavoratore vecchio stampo del legno, oggi sono tutti in camice con macchine a controllo numerico. Una volta che conosci il legno, imposti il meccanismo e sono industrie modernissime, ormai 4.0 a manetta, come si dice qua. Allora, va bene, ci proviamo? Proviamo, ci proviamo. Allora, forza, lanciamo questa sfida, vediamo se riusciamo a fare uno spigolino al senatore, riesce a... Vi faccio vedere. Ecco, vado avanti qua, vediamo se è in grado di assolvere il compito. Prego. Non male, la manualità c'è... No, 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 si vede che è un uomo di lavoro. Perfetto, è un uomo di 10, eh? Eh sì, 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 sì. C'è, c'è, c'è. Ma chi è che è passato di qua sotto? Adesso faccio un volto e adesso faccio il braccio dentro. L'angolo è promosso. Perfetto, promosso, promosso. Bravissimo. Adesso possiamo andare a programmare. Adesso là c'è il computer e programmerà la macchina controllo numerico per le prossime lavorazioni. Bene, bene. Grazie. Oh ragazzi, grazie a voi. E allora io a maggior ragione faccio un saluto e un omaggio ai miei nonni e a mio zio. Perché attraverso il loro racconto ho scoperto la bottega, attraverso il loro racconto ho scoperto anche quello che è il nostro patrimonio. Nonno lavorava in bottega e aveva a che fare con questi strumenti in una bottega che era quasi ormai da passato remoto. E lo zio faceva il tappezzere e mi ha insegnato tante cose. Ecco perché rimango fortemente affascinato da tutta ciò che è una materia che ci appartiene. Mi auguro che questo video sia servito anche come promo per un mondo che dà lavoro, che è interessantissimo e che ha bisogno sempre più di visibilità. Ma non sarà certo l'unico e ultimo video che faremo in materia.